Mensana in corpore sano. Questo il titolo del seminario dedicato ad atleti, tecnici sportivi e le loro famiglie che sabato 18 novembre si terrà all'Alexander Museum Palace Hotel a partire dalle 15.30. Un seminario in cui attraverso il contributo di nutrizionisti, biologi, psicologi, naturopati e tecnici sportivi si accenderà il focus sulla buona alimentazione e la salute mentale quali pilastri fondanti dell'attività sportiva. Un focus ampliato anche alle tematiche connessi alla disabilità. Un appuntamento che è stato presentato oggi in Comune di Pesero e che mette al tavolo di confronto una pluralità di soggetti, dall'Associazione Piattaforma Solidale alla Federazione Pentatron, da terapeia all'AS di Montegranaro. Parleremo di sport, nutrizione ma anche in generale di salute mentale dell'atreta, infatti io sono una psicologa quindi darò un focus su questo argomento e abbiamo pensato di organizzarlo proprio per rispondere a molte domande pratiche che ci vengono fatte sul campo, dai genitori a volte anche dagli atleti, quelli un po' più grandi, domande pratiche su cosa posso mangiare prima dell'allenamento perché esco all'una e mezza da scuola, alle due devo essere in vasca e dopo l'allenamento in gara, quindi proprio anche preoccupazioni dei genitori come faccio se mio figlio mangia troppo, mangia poco, non mangia nulla e abbiamo pensato insomma di poter dare un'opportunità a genitori, a tecnici, anche ad atleti di poter parlare con dei professionisti, avremo tre biologi nutrizionisti, io che sono una psicologa e poi avremo anche il tecnico, diciamo l'allenatore di Pentatron che ci darà un focus sul mondo sportivo e sulle specificità del multisport, quindi speriamo che possa essere utile diciamo proprio per rispondere ai dubbi pratici.